Simone Micheli, una bella mostra alla Design Library quest'anno? Spa World alla Design Library è un po' il mio compleanno perché io faccio i 50 anni, 25 di professione, mi sono dedicato a questa mostra che presenta in maniera surreale e intelligente una carrellata di progetti dei 25 anni più esemplificativi con delle immagini non statiche, con delle immagini dinamiche. Poi Simone ha fatto questo, ha chiamato a dar forza all'esposizione 23 aziende di grande spessore che propongono all'interno della mostra dei prodotti simbolici, interessanti e intelligenti legati al mondo spa. È una serie di situazioni aggregate che donano all'insieme identità, unicità, straordinarietà. Quindi una mostra video legata al passato, al presente, al futuro dei miei progetti connessi a questa dimensione, una serie di prodotti iconici che hanno senso diverso in relazione al tipo produttivo o alle caratteristiche distintive di ogni azienda che è presente all'interno di questa mostra. È una mostra che durerà due mesi, è partita il 18 di marzo, durerà fino al 15 di maggio. È bella da vedere. Buon compleanno.